Il mistero dei vasi egizi Non come questo vaso di Creta che ho appena comprato, ma vasi fatti di alabastro, basalto, persino di orite, che è la pietra più dura di tutte. Il mistero è questo. E' abbastanza facile capire come poterlo scavare all'interno, trapanando dritto all'ingiù. Ma questi spazi laterali, la tecnologia moderna non è in grado di produrli. Eppure gli antichi egizi hanno scolpito migliaia di questi vasi, alcuni duemila anni prima di quando si suppone sia iniziata la civiltà da queste parti. Come? È ancora un mistero.